Un grazie di esserci venuto a trovare a Carlo Cassina, sei di fianco a Valentino Rossi, hai sempre questa grossa responsabilità, mediatica e anche sportiva. Allora innanzitutto, novità di quest'anno, siete a bordo delle VRC Plus per la prima volta qui a Monza, sei appena sceso dalla macchina, raccontaci le tue impressioni rispetto ai VRC già di alto livello che eri abituato. Allora l'impressione è sempre positiva rimontare dopo un anno su una macchina del genere, però ecco, poi i tempi sono una cosa, ma non è che siamo qui, ah madonna, c'è niente diciamo di eccezionale, è sicuramente più performante, quindi diciamo questa è la sensazione, poi i tempi sono un'altra cosa, però ecco non è che ci ha spaventato, l'importante è che non ci abbia spaventato. Poi il pilota normalmente quando sale con un mezzo sempre superiore è solo un piacere, capito? Però ecco in questo momento non, proprio la sensazione di Vale è stata bella così, ma tutto sommato insomma niente di stratosferico. Anche perché siete abituati tutti e due a vetture a potenze di alto livello, no? Bene, senti, come vedi quest'anno l'atmosfera qui a Monza a questo fine stagione? Ma niente, diciamo col fatto che praticamente c'è un'isola di queste plus appunto messe lì da parte, queste tre più una, la gara si è un po' spezzata, quindi ci sarà un tipo di gara da una parte e un tipo di gara dall'altra. Fortunatamente c'è un pilota vero su Ninan per fare diciamo un po' il competitor in questo gruppo e quindi sarà interessante vedere un pilota che normalmente guida tutto l'anno quel tipo di macchine lì, come siamo messi, però ecco purtroppo si è un po' spaccata. Senti, l'ultima domanda su Valentino Rossi, passano gli anni ma sembra inossidabile, come l'hai trovato? No, Vale è sempre uguale, anche lui fra un po' vede il 40 davanti, quindi diciamo il contatore fortunatamente gira per tutti uguale, quindi lo spirito è sempre lo stesso. Però perché il motorsport è più lento degli altri. Sì, sì, diciamo che lui molto bene ha lo sponsor Fornero dietro, va bene, perché ci portano avanti tutti, però insomma Vale per lui è sempre un bel avvenimento, una festa, un piacere e un modo di finire piacevolmente la stagione. Grazie, in bocca al lupo. Grazie.